Io non posso che iniziare questo intervento dicendo veramente che tutto quello che ho ascoltato in aula dalla parte delle opposizioni è effettivamente strumentale e tutto quello che è stato scritto sui giornali è effettivamente strumentale. La questione è che questa è una delibera di indirizzo per modificare il regolamento rifiuti. Ora è ovvio che si indicano alcune cose ma poi questo regolamento dovrà tornare in aula. Noi questo lavoro lo abbiamo iniziato già da diverso tempo, sui rifiuti è stato fatto un lavoro enorme sotto tanti aspetti con i vari piani che abbiamo presentato e non è soltanto questo un atto, questo è uno dei tanti atti che noi stiamo presentando. Poi è ovvio che nel momento in cui riporteremo in aula il regolamento perché poi dovrà ritornare in aula faremo una discussione dove entreremo nel dettaglio dei vari punti. E' ovvio che poi tutti si sono un po' incentrati su questa cosa che noi abbiamo scritto coinvolgere i confrontisti per lo spazzamento davanti ai negozi. E' un punto, è una cosa che c'è in tanti regolamenti d'Italia e non credo che abbia fatto tanto scalpore in tutti i regolamenti in cui c'è. E' ovvio che poi tra l'altro la parte dello spazzamento nella Tari è nella parte fissa, non in quella variabile, per cui eventualmente dovremo trovare altre modalità di benefici per coloro che aderiscono allo spazzamento stradale da parte dei frontisti. Ma non è che si può dare la riduzione della Tari su quello specifico argomento perché non si può fare, semplicemente non si può fare. Dunque tutti si stanno concentrando su questo punto come chissà che cosa abbiamo scritto, non abbiamo scritto nulla di strano, una cosa che c'è in tanti regolamenti in Italia. Lo vogliamo prevedere anche nel regolamento romano. Stiamo lavorando alacremente a un problema enorme che ci è stato lasciato dalle altre amministrazioni in situazioni decisamente disastrose. Peraltro io lo voglio ricordare da quando siamo arrivati per effetto della delibera marino, la delibera 58, ci sono stati almeno 530 lavoratori che sono andati in pensione e non sono stati reintegrati. Noi con una gran fatica abbiamo attivato le procedure per la modifica della delibera 58 e ci auguriamo che entro quest'anno di iniziare nuovamente ad assumere in ama perché su 7700 lavoratori averne 530 in meno alla fine poi il discorso è ovvio che pesa. Ma ci rendiamo conto che i problemi che si stanno vedendo nella città nella raccolta dei rifiuti sono problemi assolutamente complessi per tante ragioni. L'ho già detto in un altro intervento in quest'anno quando abbiamo fatto il consiglio straordinario su ama, noi ci ritroviamo a dover trattare, parlare, agire su un argomento in cui c'è un interesse oggettivo di soggetti che agiscono in modo illegale, illecito nell'ambito dei rifiuti, che pesa e pesa anche in maniera pesante. L'ho ricordato gli almeno 300 impianti di rifiuti che sono stati incendiati negli ultimi tre anni, è un fatto gravissimo, purtroppo ha coinvolto anche un impianto di Roma Capitale di Ama l'11 di dicembre, è un fatto decisamente anomalo, per cui noi ci ritroviamo in una situazione oggettivamente difficile. Questo è uno dei tanti atti che noi stiamo portando avanti. Uno, abbiamo detto guardate questo regolamento è da modificare e da aggiornare, semplicemente, con molta semplicità. Quando noi andremo poi a portarlo in aula in modo definitivo ci faremo una discussione dettagliata sui vari punti. Oggi andare a strumentalizzare questo punto, io dico che sia vergognoso da parte di chi ci ha lasciato la città in queste condizioni, non era assolutamente opportuno, lo hanno strumentalizzato anche i giornali, non è accaduto invece assolutamente niente, per cui noi con convinzione votiamo questo documento. Grazie.